Llevo le parecansi, ne da prende e non sei, quando sei qui 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 mi, ma non sei che mi assumo sì. Quando vedo un italiano, le pregunto com'estiamo, fero quando ho in cinese, e a noi del resto del resto, a trattar per tutto il mondo. Tutti i sempre la trattar per todo il mondo. Il tuo nome è Gesù, è Ruggerimento, dove ci stai Schritt e non mi che scuima, sai allora, portavo a sentar achora, s'latra lo so propre di un miro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.